Ciao, oggi vi faccio vedere come preparo il capo magro è un piatto che potete trovare nei menu nel mio sito che vedete qui sotto in coppia capo magro è un piatto tipo coligure oggi lo farò con una rata una capassata delle mazzancolle cozze, vombure dei gamberi, fagiolini carote, patate una barba pietola e la salsa verde potete vedere in coppia il link qui sopra in alto a destra il procedimento per prima cosa metto a cucinare l'orana a vapore e poi mi preparo tutte le mie verdure che andrò a cucinare tutte a vapore per 10-12 minuti al massimo nella vaporiera metto le carote i fagiolini le patate, le taglio tutta a misura e faccio andare nel frattempo preparo le cozze quindi olio aglio metto le cozze metto le vongole scaldo un attimino la padella e aggiungo un po' di vino bianco faccio andare un po' in modo tale che si aprano e così come potete vedere una volta aperte spengo e faccio raffreddare nel frattempo preparo anche l'orata la incomincio a pulire potete trovare un buon tutorial nel mio sito su come pulire le orate incomincio a prepararmi le varie guarnizioni parto dalla barbabietola la pelo e la taglio a fettine metto a marinare la capassanta con olio sale e limone ho finito di marinare gli alberi nel frattempo ho anche sbucciato le cozze le vongole ci ho tenuto un po' di liquido ho pronto le verdure al vapore quindi anche qui le condisco con olio sale e pepe l'è anche un po' di addolire la stessa cosa dei gamberi queste le andiamo a ripassare con un po' di alma-gnac ecco qua facciamo Ora prendiamo la capassanta, la facciamo deviare, quindi padella bella calda Quando c'è questa bella crosticina, va dire che ci siamo Faccio saltare le massacolle e le vado poi a sfumare con l'armagnac Bene, cominciamo l'impiattamento Mettiamo il nostro pane che abbiamo precedentemente tagliato e tostato di misura Incominciamo con i fagioli, un po' ter vapore e poi conditi solo con olio, sale e pezzi Ci mettiamo la nostra salsa verde, questa abbondata perché poi caratterizzerà il piatto tipo morattone Poi ci mettiamo le patate E poi ci mettiamo le patate La pizze La salsa verde Le barbabiette che ho tagliato a fettine E io chiudo col pesce Ci aiutiamo questo per schiacciare un po' Poi incominciamo a giocare Parto con i gamberi crudi che ho lasciato a marinare Le mazzancolle, la capassanta, cozze, vongole Un po' di maionese al basilico che potete trovare anche lì nei miei video Come farla E la nostra salsa verde Anche oggi avete visto un nuovo piatto, il capo magro Lo potete trovare nei miei menu tramite il sito qui sotto in coppia Io vi saluto e vi ringrazio, ciao da Andrea